Ciao a tutti, benvenuti nel canale, in questo video vi spiegherò come completare la sfida Trova Gnomi ad Alture Accoglienti, la nuova, nuova si fa per dire, località di Fortnite arrivata con la stagione 3. Tutto quello che dovete fare è praticamente trovare almeno 3 Gnomi e interagire con loro. Io personalmente consiglio di andare in questa casa, in alto a sinistra, perché troverete uno Gnomo direttamente nel cortile, un altro lo troverete più avanti e un altro in questa abitazione. Adesso vi mostro comunque l'ubicazione dei 3 Gnomi, sperando di non morire, e in questo modo potrete portare a termine la sfida in questione. Quindi una volta che siete atterrati qui, ecco il primo Gnomo, interagite con cerca, quindi non dovete distruggerlo, ma dovete interagire. Il secondo Gnomo lo trovate qui, questa sfida praticamente si completa al volo, se non ci sono giocatori a rompervi le scatole. Ecco il secondo, e il terzo Gnomo lo trovate in questa casa. Quindi proseguite dritti, praticamente, e troverete il terzo Gnomo nella soffitta. Quindi entrate nella casa, andate in alto e troverete l'ultimo Gnomo. Quindi entriamo in casa, andiamo in alto con la scala, naturalmente, perché non ci sono le scale nell'abitazione, quindi farmiamo un po' di materiali per costruirci la scala, e andiamo sopra. L'ognomo non si distrugge, eccolo qua. Cerca, e così completerete la sfida. L'ognomo non si distrugge, eccolo qua.